Tragedia nei boschi della bassa Valtellina. È scivolato in una zona boschiva impervia, poco sopra l'abitato di Delebio, ed è ruzzolato per un'ottantina di metri lungo il pendio ripido disseminato di roccette, riportando traumi fatali che non gli hanno concesso scampo. Il corpo senza vita di Ernesto, Reste Baraglia, 72enne di Delebio, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, riverso nell'acqua di un ruscello, nei boschi di casa. Sulla dinamica dell'accaduto, accertamenti sono in corso da parte dei calabinieri di Delebio e dei colleghi della compagnia di Chiavenna. La disgrazia è avvenuta in località Poncina, a 300 metri di quota. Data la difficoltà del terreno, l'uomo, di corporatura robusta, è stato recuperato con la tecnica del contrappeso. Sul posto, nove tecnici della stazione del soccorso alpino di Morbegno, oltre ai colleghi del SAGF, della Guardia di Finanza, personale della Croce Rossa e di Areu. Grazie.